A voi tutti ben ritrovati su Meteo Giuliacci. Dopo la bella rinfrescata che ha coinvolto tutta la penisola italiana, lentamente le temperature torneranno ad aumentare, soprattutto al centro nord, comunque aumenteranno anche sulle regioni meridionali, lievemente però. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella giornata di domenica, quindi come si concluderà questo fine settimana. All'insegna del tempo tranquillo, abbastanza buono e bello su buona parte della penisola italiana, soprattutto al sud, al centro e al nord transiteranno delle nubi medio-alte, quindi innocue, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, quindi nel complesso una buona domenica con temperature in generale rialzo. Tra l'altro il vento che ancora soffierà in maniera moderata o sostenuta nella prima parte della giornata sulle regioni meridionali, soprattutto sul medio e basso versante adriatico, tenderà verso sera ad attenuarsi progressivamente. Io cari amici ho concluso, da parte mia vi auguro di trascorrere una buona domenica. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.